eccomi ho visto una cosa ho visto il tuo avatar di mi sembrava che non eri anche che ha sfruttato la mia vicina pecorina se non erro ma aiutami a pecorina era un suo alert tra l'altro secondo me è molto iconico come streamer come? si leieratino ma sai che cazzo stai a fare? vabbè a parte questo di che parlavate? si stava parlando di provare il cazzo quando uno si stanca della topa se si è stanchi della topa perché scusa non si può fare la cosa insieme cioè non si può fare una roba insieme ma questo vabbè è un'altra cosa insomma si parlava di quelli che abbandonano la figa perché troppo troppo trombino è un po' strumento privarsi di una cosa cioè quando puoi fare effettivamente tutto non c'è una non vieta l'altra ma al massimo che cazzo sta a fare in tutto questo ancora cucina cucina mangia le sue cose sono le 11 e lo so lui stacca tardi capito deve ma non è bene stacca tardi inizia a regolare la tua vita di merda ma stai oh ma io non uso i delivery come te perché non ti giucci il cazzo da solo idiota coglione eh potete evitare di 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 c'è non è una cosa per merda ma è uscito paletta dai toti sì ok vedi che che culo lo cerco da una vita per completare l'album va bene comunque palettone nazionale il mio idolo calciatore ecco spiegami un po questa cosa simo che sono interessato come sai cioè io sono d'accordo con te e perché provare tutto secondo te un vantaggio anche di spiegabile interessato che lui è uno del no già capito nel nostro partito non del nostro partito però è una persona molto vicina a noi per certi dati dato mi presento ufficialmente piacere sono simone piacere bravo si muore questa mano virtuale ma banalmente il stancarsi della figa o che potrebbe starci ma quando provi quando provi fragola alla fine non puoi fare almeno di fragole panna capito quello che intendo mi sento molto specifico c'è nessuno va nessuno va dal gelataio chiede brome dai pistacchio noi dici sempre pistacchio e pistacchio e fior di latte non è che dici pistacchio sei stupido se lo fai è la possibilità di prendere due gusti ne prendi uno solo no il gelataio te lo mette davanti sto molto scegli qual è il tuo gelato tipo luca il gelato tipo con tutti i secondi senso cioè non ci capisco niente poi un gusto di pistacchio cazzo mi sono bloccato scusami ho premuto quel tasto e mi ha buggato tutto l'immortacci mia aspettate vabbè comunque io sono d'accordo con simone ovviamente insomma da quando c'è stato l'unicorno poi alla fine anche solo a fatti niente parole ma l'unicorno è uno delle è una delle tante realtà possiamo dire all'unicorno ecco mi ha incontrato l'italiano luca mi ha incontrato un amico che ti ha fatto l'unicorno col cazzo ti spiego la dinamica è un po particolare si vocifra di amici che si approfittano magari del fatto che te sei seduto sul letto e ti appoggiano e lo scro la sacca scrutale sulla testa e quindi magari in realtà è tutto dovuto dal rintendimento del fatto che ti sei fatto a ferrare il pisello e te lo sei fatto agitare come una bandiera davanti a te con asca incitandola a succhiallo al oh guarda che puoi anche fare l'unicorno allora ho fatto l'unicorno e lì è stato comunque accettato non sapevo che ti dava fastidio comunque aperta a me no sembra che ti dava fastidio il fatto che a me no a me no ora questo lo inventi te così no perché adesso l'hai appena detto come per dire si approfittano che si approfittano dico no si approfitta della posizione seduta della mia posizione a sedere non è che tutte le volte di fare lo tsundere così io ti rassicuro ti dico no non essere tsundere hai frainteso e così te ti senti più sicuro non ha assolutamente nessun senso questa dinamica ripetuta diventa un pisce però come se il tsundere è bressi e il masseo cioè che hanno orientato il coglione tipo un tronchi c'è un tronchi c'è rigido al di fuori ma tenero dentro capito tutto un tronchi anche rigido o era un po vada io alla devo dire la verità non lo ricordo però se lo ricorda ma non è vero c'era una situazione del genere secondo me non è scontatissimo riuscire a essere duro come il legno che poi non è legno insomma dell'unicorno quindi da parte da parte mia c'era poche niente però quando ricordo di avere afferra qua c'è presente tipo che ne so l'immaginario avenger no dove c'è thor del martello se si è molto schietto il cazzo di dare delle mie mani io non io dubito che fosse stato alta totalmente a riposo perché lo conosciamo entrambi no sta bello no allora al tatto io non lo hai fatto la pressione mi sta dicendo che tu sei stato degno quindi io sono stato degno anzi volessi come lo managgiavo aveva del cambio che pareva mio capito ovviamente ovviamente tutto uno scherzo e ragazzi non c'è nemmeno una cosa troviamo sul letto a sedere tutto certo certo no ma ragazzi è un un momento di show per voi non c'era nessuna live totalmente da soli troviamo un'ora prima e buttiamo giù così un copione con delle guerre se vogliamo replicare possiamo anche organizzarci tutti insieme si sarà detto l'orgia della lore sarà anche sarà anche progettata in un casale casale un po un po di dispera io ho già ho messo l'occhio su su bens comunque ma è sì sì ma io partecipo volentieri sono molto curioso in queste sono due mani però con le occhiali a sexy segretaria sono belle grosse e ma comunque più che altro a parte capienti c'è le mani di di simone a quanto si narra sono molto sono molto forti capisci sono molto tipo una pressa una pressa idraulica una morsa una cosa si vocifera però chi lo sa guarda questo quanto è storto aspetta se si nota è un pochino per nota sa per i cazzo cazzotti a questo questo nello so proprio rotto me l'hanno aggiustato male quindi fa tipo una piega strana verso questo è l'unico è il mio dito è lo storpio lo storpio della mia mano ok mini belletto buonanotte piccola ciao sta bene sì sì tutto a posto è passata fra voi no non c'è più quella di cosa stai parlando la storia gli aiuti infatti chiamate non la maltratti più con questa storia prendo le distanze no no è una domanda mia niente tibati bello so è no romi non lo so dove sta però ti venga a cercare lo stesso no vabbè l'indirizzo tanto vabbè sarete tutti vicino al moba non è che ci abbiamo l'area specifica intorno al mob a me gli streamer milanessi mi fanno morire perché oh io da milano la città la metropoli e poi sono tutti al cazzo di moda tutte le sere cioè non cambiate mai posto stanziate madonna ci sto solo quando ci sei tu ci stai che ci stai te sdraiato svenuto su un tavolo quando invece bisognerebbe stare molto più attivi senti e senti una sega adesso faccio questa domanda un po tutti questi fai farà domande vai me il mondo immaginario dove dada riesce a raggiungere i 300 chilometri orari solamente con la forza il suo corpo si mangaka riesce a padroneggiare perfettamente delle delle scimitarre chi ha la meglio in un'arena di un chilometro circa secondo me dada anche io troppo 500 metri circa dada dada facciamo il sondaggio in chat ragazzi secondo me nessuno potrà luca anche io scelgo dovete capire che queste sono le domande di planeti che mi pone sempre su dada e mangaka poi tipo quella delle mosche era la mia preferita che mi fa entra e la notte mentre gioco a doom mi fa queste domande perfetta quella delle mosche la ripropo lungo allora salve giusto per le domande la ripropo la mano esatta senti in un mondo immaginario dove mangaka ha il potere della preveggenza e dada ha il controllo sulle mosche chi ha il chi ha la meglio bellissima però c'era una particolarità sulla preveggenza di mangaka mangaka riesce a prevedere fino a un anno perché può prepararsi all'attacco sa che un anno dopo succede questo si prepara una casa intera di trappole basta una zanzariera fondamentale però 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 data sa che mangaka ha il potere ma dove mangaka tra l'altro boh non è semplicissimo ma secondo me qualche manga c'è qualcosa ma che ti forse araki ha affrontato l'argomento ma scusa è molto semplice la tecnologia la tecnologia e beh perché tu cosa fai sei preveggente tu scommetti forte su tutti gli sport diventando ricco tipo bif di ritorno al futuro con l'almanacco ti fai una casa che è perennemente circondata da una da dei lanciafiamme così le mosche non passano il fuoco il fuoco è perfetto dai ma ci sono specie diverse di mosche ci sono anche quelle che con un pizzico di uccidono cosa non per niente vera ma è vero però dimenticate un dettaglio che è vero che è preveggente ma è mangaka cioè il fatto che sia preveggente aiuta fino a un certo punto nel senso che mamma mia cosa sto facendo non lo so cioè adesso devo fare questa cosa non la io non cioè posso dire una cosa un mio errore di poco fa pensavo che la cam qui alla mia sinistra fosse di mangaka con lo sfondo che non c'era non c'era giuro giuro pensavo che era in stato mangaka era qua senza essere presente c'hanno quelle belle camere chilometriche dietro che hanno quella profondità enorme cioè ti fanno capire che è chilometrica la camera io c'ho la parete che appoggio contro i fumetti e invece kiri o mangaka hanno quelle bellissime librerie vasto enorme in video comunque vince ma vince data per il 71 per cento è su questa cosa qua ma secondo me non ha analizzato da veri nerd nel combattimento che vivi una vita tra le fiamme che è una cosa fierissima lo chiamerebbero come? nell'ambito dei fumetti si chiama il prep time cioè la possibilità di prepararti uno scontro è anche vero che mangaka potrebbe cascare dalle scale il giorno dopo sbagli per chi non ha detto che è vero è mangaka che gli capita il potere da adesso in un mondo immaginare dove mangaka ha da sempre questo potere qui l'avrà masterato negli anni o no l'avrà cambiato negli anni evita di cadere dalle scale cioè mangaka non è che deve sta in difesa cioè lui come allora diventa ricco assolda mille uomini e fa fare il culo così secondo me no secondo me lo spende cioè viene ucciso dalle mosche perché lo ha speso tutto per leggere i vari capitoli dei manga futuri per me sbagliamonte nel momento stesso in cui tu dici che imbroglierà come biffi di ritorno al futuro mangaka direbbe no non è corretto però è vero è vero è vero è stato ma dipende anche se se nella storia c'è c'è una variabile però cioè c'è una sedia in questo racconto e da qualche parte per compromettere l'esito finale no più che altro perché se c'è la preveggenza di un anno e te gli metti davanti una scrivania un mouse uno schermo eccetera per un anno lo occupi ma la grandissima da lì che la scelata un mese la scrivania due o tre mesi boni van via il mouse ne faccio ma è finita raga cioè scusate guardate che mangaka un problema grosso se non si fa il cerchio di fuoco intorno gli entrano da dove gli entra l'acqua le mosche è morto si ma mangaka ha paura di puntare la sveglia perché gli viene l'ansia di non svegliarsi se riconosce il futuro starebbe malissimo questo è anche vero il carattere della persona una domanda secondo me che cambia però le carte in tavola ma la preveggenza la faccia allucinata no no il giorno tu vuoi cambiarlo chiaramente se sai che sta per accadere una cosa essendo tu l'oracolo tipo next che riesce proprio l'oracolo alla seconda ma poi ragazzi stiamo parlando una persona che ha paura del minuto dopo ma poi tu vieni conto della prevengenza cioè lui se al potere della prevengenza vuol dire che praticamente lui non ha fatto nulla in questo anno per poter evitare quello scontro cioè vuol dire che non gli è servito a un cazzo per un anno quella prevengenza lì e quindi no niente la sfida è un altro un po più adesso vai va 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 quindi in un mondo no però facciamo conoscere mangaka all'inspiegabile perché secondo me ci fa un video no 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 ah quello si è difficile anche farci un video credo guarda allora ti spiego luca secondo me mangaka è un alieno tra di noi cioè quindi se vuoi un mistero uno scoop ma nel mondo ce l'hai poi ti passo dei contatti delle foto video eccetera vai vai dicevi simone sentite ecco è un mondo immaginario dove il chip può ha il controllo pieno di tutti i suoi dreadlock e ogni suo dreadlock ha la forza delle sue braccia contro una lucy lane che ha l'SMR sonico ma che può essere attivato soltanto una volta ogni cinque minuti e ha un appunto un quattro minuti di countdown cosa vuol dire sonico sonico ti stordisce tipo gli applausi di Hulk no che ti stordiscono quando avvengono chi avrebbe la meglio ma l'Usi da lontano esatto con tutta la distanza però voi tenete conto che il chip con i suoi dread può farsi delle cuffie si attorcisce il dread davanti alle orecchie o comunque anche il momento che ha la giusta velocità e frequenza riesca a neutralizzare le onde sonocche intanto nella mia chat c'è il sondaggio senti chi vince una domanda ma non sono allungabili dread comunque simone no no sono loro però hanno la forza delle sue braccia effettivamente e ha il controllo su ognuno indipendente quindi può effettivamente ma mi sto immaginando mi sto immaginando il chip che si fa i dread a cuffia che sembra tipo la principessa Leila cioè poi dopo bello ma secondo me ha più senso se si riconficca nel canale auricolare capito? li spinge potrebbero utilizzarli per avvicinarsi ancora più velocemente ma riesci comunque ah c'è tipo tentacoli che camminano puoi anche usarli per schivare gli attacchi come un elicottero capito? inizia a volare guarda che potente non credo perché come no scusa se si diventano delle eliche che hanno la forza delle braccia ma l'elica ha bisogno di una base roteante non è che se gi... vabbè ma trovi un sistema trovi un sistema ci metti un coso una full edge un sistema una bandiera sonica no dico io ho una domanda ma in tutto questo Lucy Lane come è vestita? no cosa c'è? ma come è? ma è influente per la battaglia ecco a proposito di questo Luca a te arrapano gli ASMR? a me si non mi arrapano non mi arrapano però mi piacciono ti ammetto che mi piacciono comunque posso dire una tattica infallibile dalla quale mi disallineo completamente? disallineo allora io ho una pratica particolare lo chiamerei fetish ma non è un fetish è più un'abitudine ok mentre sto al pc fuori le live sai quando chiudo la live magari metto la guardo twitch scambio nel metto nel secondo schermo che non utilizzo una live in mega sottofondo nell'altro magari nel momento in cui decido di masturbarmi metto un porno e nell'altro però comunque in sottofondo ho un intrattenimento continuo essendo una persona smart cerco sempre di fare un po' più cose contemporaneamente certo gli smr sono piuttosto interessanti su questo punto di vista e la mia masturbazione ci danno a precisare non è diretta all'smr né l'smr che contribuisce alla mia masturbazione ma contribuisce al il mio bisogno di avere un altro intrattenimento nel durante capito quello che intendo? si cioè come quelli che quando scopano hanno la tv di sottofondo tu dici io mi metto sottofondo l'smr che non ti è ci dà la tv però sono come le proteine in polvere durante un percorso di palestra tipo ti danno dipende dall'smr dipende dall'smr è un plus è certo per forza tipo Dario c'è stato una domanda su questa pratica multitasking allora se te di sottofondo tieni non lo so la zanzara per esempio poi non temi che dopo un po' di tempo crei un'ancora e quindi ogni volta che senti cruciani ti arrabbi no no è distaccato è distaccato anche anche se effettivamente poi nel quotidiano nella pratica effettiva ho sempre bisogno di un sottofondo ma non è uno specifico però un sottofondo deve starci comunque ma questo sono d'accordo non nella masturbazione ma anch'io si ma nell'insieme esatto sempre sempre quando lavoro così ho sempre la radio accesa la radio? la radio ascolto vabbè le cazzate tipo lo zodi 105 è raro trovare una persona che ascolta la radio comunque no no io ascolto la mattina dj chiamai tale eccetera il pomeriggio 105 guarda che in realtà Simone sembra ma sono tantissime le persone che si mettono a radio perché tipo lì vanno un ufficio i camionisti io ti dico il pro che trovo nella radio sia nella radio che nella tv è il fatto che non devo decidere cosa guardare cioè metto e va avanti a programma tipo che ne so metto Italia 1 e va avanti e non mi interessa è intrattenimento così dice passivo passivo quello è il pro delle radio e della e della tv perciò ho rispetto e capisco benissimo per me Twitch sta diventando quello invece no Twitch è zapping tantissimo è il contrario dipende 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 infatti io se trovo un canale io seguo la live fino alla fine però la live magari quando finisce finisci in un ride di un'altra persona che non ce ne frega niente sì allora in quel caso prendo e va come in televisione ma se finisce un programma che mi interessa e mi parte Barbara D'Urso io cambio canale mi sembra mi sembra ovvio quindi è la stessa cosa vai in un'altra live se hai voglia di guardare ancora Twitch io mi metto su un'anima tutto il giorno su un'anima io nel weekend c'ho Bob Ross fisso ho fatto il quadro insieme a Bob Ross è venuto benissimo è un insegnante incredibile no è vero è vero ho visto il quadro è venuto bello poi non so perché ci hai disegnato una vagina gigante con la bomboletta spray nel mezzo quello non c'è tra niente come Bob Ross assolutamente quella è il suo tratto distintivo sennò veniva una cosa la Bob Ross è la firma è la firma se posso permettermi questa firma eccolo ecco beh spettacolare guarda che se lo faceva a Cattano una cosa del genere erano 4 milioni guarda la mano che tiene posso fare un'analisi aspetta voglio analizzarlo tienilo ecco qua qui ci vedo innanzitutto a Fontana il taglio nella tela non capisco bene l'elemento ci schianto è la firma ok poi ci vedo anche la cultura pop Giorgio quindi Bruno Bucciarati che esce dalle sue zip esce proprio così tra l'altro e poi ovviamente c'è Bob Ross che è l'ispirazione principale c'è un po' di tutto secondo me Simone ha voluto rappresentare madre natura è la vagina di madre natura che sta dando alla vita a quello che in realtà poi è l'essenza di tutto infatti il quadro si chiama madre questura esatto non lo sapevo però una cosa che noto anche secondo me l'ha inventato adesso no 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 non è già dato se seguissi le mie storie Instagram lo sapresti ti posso dire questo genio comunque non è non è bellissimo so che non è una natura morta ma anche questura morta come critica sociale non sarebbe bello come titolo non è niente morta perché sta più scelta e dice oh sei ah ecco morta non tanto ma era più realistico morta in questura io però avrei una domanda atopica ma perché no no perché avevi il quadro la viniere eh me l'hanno rega perché i miei amici hanno sto festo sta strana sto strano rituale dove quando è il complesso di qualcuno fanno tutti quanti il regalo in tema scelto dal gruppo ah ok e il tema era guardie e mi è arrivato questo mi è arrivato un cartonato di un poliziotto enorme che adesso è distrutto ok quindi questo è un regalo di ma alla fine lo regali o lo vendi non ho capito cosa ci vuoi fare con questo no no una sorpresa dovrebbe andare nel tuo nuovo studio ma questo è ma è vero o l'ha inventato adesso questa cosa qua no no è una sorpresa io mi sentirei onorato ma che sorpresa è se me l'ha detto ora lo studio sarà pronto a maggio la cosa che colpisce è l'umiltà di Simone che addirittura non l'ha firmato l'ha firmato come gischiato come per dire io al mondo non voglio apparire troppo voglio che vada la mia opera avanti e piuttosto dico che è colpa di un cioè che è grazie a qualcun altro no no era soltanto il meme e quella la grandezza era solo il meme vabbè non lo posso anche interpretare così venditela così venditela così vabbè il meme è l'arte del nostro tempo quindi va benissimo anche come meme quell'opera lì è un'opera meme fantastica tra l'altro lo esporrò con fierezza se davvero me lo regalerai non lo so ancora se è vero o no contretto se pisce mai anche se ci sono ragazzi che mi hanno offerto dei soldi ma vabbè non c'è bisogno di facciami scusate è un regalo nel senso ma la nostra morale è più giusta sono anche ma d'altronde d'altronde Simone è un gischiato originale voglio dire è un gischiato originale no ma tu se tu lo vendi a una cifra poi ti sei creato una quotazione come artista quindi poi da lì in poi qualunque cosa tu farai su quelle dimensioni su quella tecnica avrà quella cifra lì posso partire in un altro quadro che ho fatto ma prego che vado a prendere un secondo comunque c'è qualcuno che ha scritto ma se l'ha venduto al suo mod per 160 euro ma poi che cifra è 160 euro 180 in realtà ah 180 ok boh tra l'altro Luca è stunnatissimo da tutto quello che sta succedendo sono molte molte informazioni molti scusate diciamo che il vero pub non era ancora iniziato quello era l'escaldamento esatto più che altro sei arrivato quando il treno era ancora in corsa cioè recuperare tutta l'or in pochissimo tempo non è facile però piano 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 ci si ma tutto faceva ancora delle fermate adesso non si ferma più sono cazzi tuoi no rischi di venerci travolto esatto ormai è incontrollabile ormai è incontrollabile mi finirà addosso prima o poi questo questo finito quadro eh cioè io ho fatto la quadro perché è già attaccata con mille chiodi nemmeno col chiodo proprio con la colla e ho fatto un quadro semplice molto molto simpatico è bello grosso nel senso è bello grosso sì però a me piace molto l'idea ma che c'è scritto cosa c'è scritto non vedo questo è il mio Yoko Ono proprio cioè qua siamo proprio di livelli è grosso ma è piccolo cringe perché comunque la situazione è un po' strana lo specchia sempre tu beh ci sono youtuber che sono diventati artisti quotati con molto meno quindi voglio dire assolutamente no salutare il mio amico posso mandare a fanculo Federico Klabis no bro Barco 2 fa le installazioni con la pancia gigante il tizio dentro e il bambino nella pancia con l'iPad che vuoi dire che denuncia sociale è effettivamente rispetto per gli artisti no vaffanculo Federico Klabis rispetto per gli artisti no 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 ecco io lo dico non è mi trovo d'accordo vaffanculo no finalmente 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 il bambino come la cicogna però al posto della cicogna ci sta il drone vaffanculo che cazzo è la società si sta evolvendo adesso non ci sono più valori di una volta i robot che robot vive robot vive robot ricordiamoci altri momenti di critica sociale del maestro Klabis come quel quel famoso video mi cioccolatino non so se te lo ricordi Dario tu me lo ricordi sì sì quello sull'amaro monte vabbè vabbè no vabbè ma non è bannabile ma non è bannabile molto scuro ma non è bannabile ragazzi è più razzista fa così che di il nome di una madre si ma no era tutta la canzone che era bannabile perché forse non ti ricordi com'era esatto perché prima parlava dei termi e poi c'era l'amaro monte ah per quello è usato come sostituzione quindi si ricordo poco poco o niente di quel periodo poi c'era un altro capolavoro che era finocchio di neve che era molto bello insomma pinocchio di neve era di luce grazie per la specificazione ah ok ottimo direi ottimo direi Sasha Greg mi ricordo è anche quello Jimmy no se qualcuno lo ricorda no io Jimmy Jimmy pedofilo no con Elio infatti pensavo che si scambia non confondiamo ecco non vorrei non vorrei signor Clapis con Elio ah ecco no no mi raccomando Jimmy I è la canzone di di Elio tanto bellissima è una delle mie preferite ecco vabbè ma scusa te non conosci nessuno delle persone che abbiamo citato Luca anzi per quello sei stunnato perché sono tutte persone che non mi avete frastornato capito dopo una beata posso ottenere un attimo di informazione tramite Luca sì per esempio ora voglio una tipo io sono Simone Penetti faccio lo stream e nient'altro non c'è troppa sostanza posso sapere cosa fai assolutamente sì ho un canale youtube dove parlo di misteri di misteri da 5 anni a questa parla sì ok misteri mondiali del mondo ti indirizzi su un singolo misteri a 360 gradi dal parlo normale al caso di cronaca io sono molto famoso per risolvere i misteri ah sì allora devi venire in trasmissione da me se riesci a dirmi uno dei misteri più un mistero che ti ho in mente te lo risolvo adesso no invece aspetta aspetta Simo sfruttiamo le tue conoscenze le nostre conoscenze dato che l'ispiegabile Luca non sa niente di questi personaggi che abbiamo citato facciamo una cosa facciamo che io gli mostro dei personaggi di youtube di twitch che abbiamo citato soprattutto di twitch dato che lui si sta ambientando adesso e te glieli descrivi in poche parole per fargli capire cosa fanno mi piace te la senti Simone aspetta per i beni stai a leggere attento ho ascoltato in mia mente scusa ho fatto ho fatto una gaffe poi ora faccio vedere delle foto a Luca per fargli capire chi sono queste persone e te attraverso la tua sintesi gli spieghi cosa fanno queste persone per fargli capire una ripetizione su twitch per far capire cosa fa qual è l'obiettivo cosa dovrebbe rispondere lui fagli capire cosa cazzo fanno questi ok va bene ok ho una controdomanda ma Luca come c'è finito nel pub dell'amico l'ho chiamato io ok lo sta chiedendo anche lui ad occhio però va bene benissimo ok allora aspetta chiedi ci sono ci sono ci sono il ragazzo il ragazzo scusate è anche soprannominato come maestro ok è suo solito guidare camion ed addormentarsi alla guida ok ma è anche suo solito avere un proprio spaccio di droga no sempre è in linea comunque il suo giro comunque gischia gischianto gischianti tra l'altro lo stime gischianto raggiunge 100.000 follower va bene andiamo avanti è un ballerino moderno ma tu mi dici qual è l'obiettivo che devo fare che foto è questo è il famoso il famosissimo attore che cozzalone ha fatto come cazzo dalle nubi e no omniatol omniatol chi è omniatol simone omniatol ha anche quindi devo fare solo la descrizione lui non deve indovinare devi spiegare chi è a una persona che non lo conosce capito penso che era un gioco invece no non è un gioco è soltanto io che spiego spiegati bene Dario non capisci niente allora anche Akimi con origine origine iraniane è uno youtuber italiano nel passato ho fatto tanti video su youtube sempre fuori dalle righe e da poco o meglio due anni si è iniziato a twitch dalle prime live in il scusami si è è cresciuto in maniera esposenziale anche grazie ad Hank Hank la sua spalla puoi mettere Hank mi ricordo che prima di Hank c'era un altro ragazzo che lo accompagnava però forse mi sbaglio no no non c'è nessuno ma alla fine è stato bannato da twitch o non è stato non è stato bannato ma va ma va ma va comunque uno dei uno dei uno dei gol di twitch italia nell'ultimo nel 2021 2020 2021 bene abbiamo tre ragazzi tre ragazzi molto simpatici romani romani uno di questi non mostra mai la faccia l'altro invece voleva fare l'artista voleva cantare ma alla fine si è ridotto a fare un podcast i ragazzi in questione fanno appunto un podcast tra cui il caro mister flame partendo da sinistra al centro mister marra che aspetta un figlio e a breve partorirà ma cosa c'entra questo l'ultimo a destra c'è Simone Santoro c'è Simone Santoro ex youtube fa cagare sto mangiando uno babbo s k s k s k s k s k s il fattuto principale è il femministe ci hanno attaccato adesso basta diciamo la nostra contro questa persona che ci ha attaccato ci hanno attaccato di nuovo e ancora una volta ci hanno attaccato va bene va bene abbiamo capito poi guarda bene il ragazzo è partito da youtube dall'età giovanissima possiamo vedere la foto lì la di positiva con gli occhiali possiamo vedere un mangaka molto giovane per la sua passione la sua passione per i manga è diventata effettivamente un mestiere ne ha fatto un canale youtube dove spiegava i migliori manga e ha anche addirittura vedete qui con PewDiePie e PewDiePie Marzia ha fatto anche un suo fumetto che è Death Shield ormai campione di incassi il mangaka 96 continua su Twitch la sua carriera portando varietà e non solo manga bravissimo poi stai assimilando mi è stato a prendere un mondo praticamente da poco inserito nel gaming con il mouse e la rastiera vabbè non esageriamo adesso e poi poi ok sì ci sono no vabbè sbagliato personaggio inspiegabile ancora oggi non si sa da dove proviene non si sa perché lo fa e come riesce a farlo ogni tanto le sue uscite e le sue affermazioni sembrano surreali sembra quasi non partorirle forse un progetto più grande forse un progetto nato effettivamente dalla mente contorta di Dario Moccia ma questo nessuno ancora lo sa no non è un mio progetto anche perché fa live da da un po' forse è costruito dall'inizio da Dario Moccia poi un nome a caso Zabaglione arrestato otto mesi no no otto mesi di condanna ma nient'altro di no 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 abbiamo sbagliato no no 8 mesi di condanna sicuramente gli daranno la soluzione ma comunque per ora la condanna è questa benissimo un pro player un pro player possiamo considerarlo gamer partito con vari con vari game con vari giochi spara tutto ha fatto successo con fortnite il famoso gioco di battle royale il ragazzo ha fatto un ragazzo un ragazzo e anche un bravissimo intrattenitore ha fatto successo appunto con il gioco ma si è poi evoluto spostandosi nonostante avesse cioè normalmente ha visto che fortnite non andava più si è spostato su warzone e quindi tutt'oggi continua con la sua carriera da pro player ma niente fa twitch non so che altro mettiamo mettiamo l'ultimo voglio sapere cosa ne pensi parlando di misteri essendo essendo tu un esperto di misteri volpescu probabilmente è il mistero più grande della piattaforma turbiola twitch twitch italia parlando in breve volpescu non si capisce benissimo quale quale contenuto porti cosa abbia in mente ho sentito volpescu dire volpescu probabilmente è il tabù il tabù fatta per solo l'umorismo di volpescu è fine a se stesse chi lo capisce può farne tesoro ma possiamo investigare in qualche modo si si assolutamente se è possibile invitare il pescu si può anche parlare direttamente con l'entità è una sorta di sasquatch una sorta di bigfoot una sorta di come si può dire primo incontro ecco volete quello che si avvicina di più all'incontro extraterrestre che bel quadro abbiamo si 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 poi insomma va bene c'è tanto da dire in realtà ci sono tantissimi personaggi che infestano questa piattaforma non che Nanni passi inosservato lo sto indicando in questo momento aspetta chi Victor ho sbagliato sto indicando Vanni eccolo o se no così eccoci ecco Nanni è un personaggio molto strano che io stesso non sono riuscito a capire in tutto questo tempo perché comunque quando seguo una persona oltre che a seguirla per uno scopo per intrattenermi lo seguo anche per studiarlo e Nanni ancora non lo capisco posso aiutarti a capirmi basta che fai domando i tuoi ganni lasciali per gli altri io cerco di capire per me diciamo che secondo me ancora deve capire Nanni deve ancora trovare la cornice giusta però Nanni è molto strano perché nel suo sembra molto molto pacato molto normale ma c'è qualcosa che non mi convince nei suoi occhi il trickster della lore cioè mia madre mi ha sempre detto stai attento ai buoni più che ai cattivi mi ha sempre detto questo mia madre vabbè però ho sempre fatto non lo so non ho mai dato segno di ho capito ma avere una persona semplicemente buona al mio naso non convinci come non mi convince mangaka tra l'altro se vogliamo mettere anche mangaka no no dietro Luca c'è qualcosa che prima o poi capirò perché vabbè io mangaka l'ho conosciuto qui dentro diciamo e visto che come avete già anche detto voi vivi un po' in un pianeta ma è sempre stato così o è il pub che lo ha traviato o la 220 io l'ho conosciuto di fa una fiera abbiamo fatto una serata era una persona cioè era piacevole e tutto ma una persona come un'altra quando io l'ho rivista al pub che si comportava così ho pensato o quella sera si è trattenuto una persona tranquillissima con cui si facevano discorsi normalissimi non so è stato un po' deviato via era una serata una serata eravamo io lui e Violet quando ancora non era Violet di Twitch era sì 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 era una fiera ci sono barzellette che iniziano più o meno così c'eravamo io ti giuro eravamo e non solo barzellette era la sera perché eravamo vicini di tipo di come si dice dei appartamenti a schiera e praticamente eravamo noi tre più il ragazzo di Violet eravamo lì che si chiacchieravano fino a notte tarda ma discorsi normalissimi niente di particolarmente strano infatti mi so stupito che bellina maura guarda come è un bel gatto sì Luca ma era Violet quella sera sì era Violet Luca buongiorno principessa niente vabbè Luca dai vabbè vabbè poi dal mondo ok io sono tentato di uscire soltanto per poterlo fare entrare e vedere interagire e correre cioè nel senso così non lo so non lo so mi sacrifico volentieri e se Luca vuole entrare lo dica ma guarda tanto io ora esco ma già che è mezzanotte fra un po' via vi saluto a tutti ciao anche io sono sul punto di uscire ciao Tirio è comprensibile io e te abbiamo una roba in sospeso devo ancora risolvere i tuoi misteri a me dici ma che parlo con te a me sì sì ma che cosa devi risolvere bro io posso risolvere tutti i misteri del mondo qualsiasi cosa cioè ogni volta è stato posto un mistero l'ho risolto ma facile diretto ci sta quella storia del Napoleone non si sa dove no chi era chi è che non che non si sa dove il cazzo è sepolto Napoleone o Garibaldi un personaggio un po' diversi mi sa Garibaldi Garibaldi mi sa Garibaldi non si sa dove sepolto da una dall'altra è facile sia una nell'altra easy si sono persi due tre pezzi due gambe stanno dall'altra parte e due in un'altra easy a posto ma ho capito ma le gambe dove sono sono io le gambe stanno in una parte e male il busto stanno in un'altra si ma se ti chiede adesso dove perché è lì che risolve il mistero capito vabbè adesso non è che può farvi tutto lui si ma infatti quanto è bello quel coniglio è un gatto è chiaramente un gatto è un gatto chiaramente un gatto anche le tipiche momenti da gatto ma se un mistero entrasse adesso sarebbe interessante che è un gatto è un gatto